Ciao, sono Mirko Castagiovanni. In questo video ti darò alcune informazioni preziosissime per realizzare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi. Io personalmente ho conseguito una formazione professionale. Partiamo subito dal presupposto che per avere successo nella vita bisogna associarsi con persone di successo. Esempio, voglio essere un grandissimo calciatore? Bene, devo farvi seguire da un professionista nel campo calcistico. Non posso farmi seguire da uno di calcio che non ne sa nulla, no? Ci siamo, no? Perfetto. Stessa cosa vale nel denaro. Voglio avere successo? Voglio avere denaro? Mi associo con persone che abbiano avuto successo prima di me, che comunque abbiano percorso una strada come la dovrò percorrere io. Una persona, un personaggio di cui vi parlerò a breve, è stato uno dei miei più grandi punti di riferimento. Perché? Perché mi ha istruito finanziariamente. Lui di che cosa ci parla? Innanzitutto il suo nome è Robert Kiyosaki. Ci parla di quattro flussi di denaro. Ci insegna quattro flussi di denaro tra cui sicuramente qualcuno lo conoscete già. Lui li si divide in quattro modi, in quattro quadranti. Vi consiglio di leggere i suoi libri, sono fantastici. Lui si divide questi flussi di denaro in quattro modi. D e A. D sta per dipendente, che è la persona che comunque scambia del tempo per denaro, tempo per denaro, e sta lì a correre magari anche tutta la vita, tutta la vita, per poi non avere comunque nulla di fisico. Non ha creato un qualcosa che rimane. Perché comunque se si ferma non guadagna. Fantastico. Andiamo sulla A che è l'autonomo. L'autonomo è quella persona che comunque apre un'attività improprio, quindi già sappiamo di che cosa parliamo, nel settore tradizionale, dove anche lui deve correre come un matto per generare denaro. Perché se si ferma è finita, non guadagna. Posso fare esempio questo del dentista. Dentista per poter guadagnare ha un'attività improprio, si alza la mattina e torna la sera per generare denaro. Perché deve scambiare anche lui tempo per denaro. Perfetto. E questo è più o meno quello che ci insegnano a scuola. Perché a scuola ci programmano a essere dipendenti o autonomi. Robert Kiyosaki cosa ci dice? Che esistono altri due quadranti dalla parte di destra. Che sono T e I. Noi abbiamo I che stanno per investitori, quindi comunque è nel suo campo perché Robert Kiyosaki è un grandissimo investitore. Ma investitori intendo comunque persone che hanno veramente tanto denaro da investire. Come ad esempio hanno la possibilità di comprare, non so, 15 appartamenti, 20 appartamenti. Prendeli, metteteli in affitto e generano attivi. Cosa sono gli attivi? Quel flusso di denaro che cammina, entra, con o senza di te. Bene. Questo diciamo fa parte della I. Ora passiamo alla T. T che cos'è? T è titolare di impresa o di sistema. Robert Perché Kiyosaki nei suoi libri specifica benissimo che se dovesse tornare indietro non andrebbe subito a mirare il settore I investitore ma si appoggerebbe con più facilità alla T. Perché il titolare di sistema, oggi come oggi, parlando del network marketing, è l'unico settore senza rischi e con più successo per generare denaro. Bene. Per capire meglio che cos'è un titolare di sistema, estrappolo una domanda da uno dei libri di Robert Kiyosaki e ve la pongo a voi. Porti secchi o costruisci acquedotti? Bene. Di questo ne parleremo nei prossimi video, mentre voi riflettete su queste due domande. Se le informazioni che vi ho dato vi sono piaciute, mettete mi piace e iscrivetevi al blog su YouTube, sul canale YouTube e ci vediamo nei prossimi video. Grazie e buon divertimento. Ciao!